Truffa aggravata. Partirà da questa accusa domani la requisitoria del pubblico ministero nel processo che vede imputati un dirigente e due dipendenti genovesi dell'Inail, l'istituto che assicura contro gli infortuni sul lavoro. Gli imputati sono accusati di avere pesanti responsabilità sulle pensioni per amianto che secondo la procura sarebbero state concesse indebitamente a certinaia di lavoratori dell'Ansaldo, adesso indagati. Dopo le richieste del pubblico ministero toccherà ai difensori, tra qualche settimana è attesa la sentenza. È solo una tranche della max inchiesta giudiziaria che coinvolge complessivamente 1.500 tra ex e attuali dipendenti dell'azienda. Adesso riscano di finire sotto processo, per questo motivo a ogni udienza manifestano davanti il Palazzo di Giustizia.